Ciao ragazzi, io sono Francesco, gestore, creatore e quant'altro di Franky Attropeller Channel Oggi voglio proporvi una cosa che non facevo da anni Ovvero, voglio darmi una mia opinione e vedere se magari combacia con la vostra Perché spero di non essere l'unico stronzolo che la pensa così E perdonate il francesismo Su un argomento per qualche motivo spinoso, in particolar modo in Italia Voglio parlare dei video sponsorizzati Ecco, non parlerei proprio della pubblicità in generale Voglio parlare dei video, dei youtuber che vengono sponsorizzati da aziende esterne Scusate, sono un po' raffreddato Cosa intendo per video sponsorizzati? Facciamo un esempio di uno youtuber americano, John Tron Che fa una rubrica sui videogiochi e che a fine video parla del suo sponsor mensile Per esempio, Amazon, gli autolibri di Amazon Possono essere rasoi da barba, possono essere siti, aziende, ditte Comunque gente che in cambio di una piccola pubblicità paga un compenso Basta Quello che vorrei capire io è Perché in Italia una cosa simile è talmente scandalosa? Ovvero, uno youtuber porta un video di qualità Non lo so, Marcus Krohn Per nominare dei game player famosi Portano su YouTube un episodio di... Per esempio, Marcus Krohn porta su YouTube un episodio di Minecraft Bellissimo, vi divertite come sempre Solo che a fine video dice Ragazzi, mi hanno pagato Passate se volete dagli autolibri di Amazon Certo, io non vivo di aria e visualizzazioni Ho bisogno di soldi per vivere, per mangiare Se volete fateci un salto Tantami mi hanno già pagato Ok, c'è una pubblicità alla fine del video Ma non capisco E sinceramente, non sto facendo del sarcasmo Non capisco come questo diventa un problema su YouTube Italia La pubblicità che c'è a fine video In mezzo al video, a inizio video Non va in nessun modo ad intaccare la qualità del video stesso Quindi non ne capisco il motivo Mettete caso Faccio un episodio di Frankie Retron Vi piace Però alla fine passate dal sito della Casio Che fa dei begli orologi anni 80 Come piacciono a me E mi hanno pagato per fare pubblicità Perché hanno visto che porto un orologio Casio Come può questo rovinare la vostra esperienza su un video? Dove sorge il problema? In realtà, solitamente sorgono due problemi Quando la pubblicità non è esplicita Complicita Ok? Quando, per esempio, se qualcuno Se io facessi una recensione sull'Xbox One Cosa che non farei mai in condizioni normali Perché di solito parlo di videogiochi retro, vintage Faccio un episodio di una recensione sui Xbox One E ne parlo solo bene Non parlo di aspetti negativi E non vi dico che mi hanno pagato Quello, oltre che a snaturare i miei video Va ad intaccare la qualità Perché non parlo di mie... Che non è il lavoro dello YouTuber Spesso Numero due Quando lo YouTuber si svende completamente Ovvero Io faccio vlog sul make-up E la Michelin viene a farmi A propormi una sponsorizzazione Lì vai un po' a rovinarti La performance Nel senso che vai ad intaccare Quella che è effettivamente la qualità del tuo canale Se io invece recensisco videogiochi E non so neanche... La Naughty Dog Viene e mi dice Ti do tot euro Se alla fine del video metti lo spezzone con Uncharted Va bene E per qualche motivo non riesco a capire Tutto quello che serve Per avere una buona pubblicità e un buon riscontro col pubblico È la sincerità Ragazzi Io cioè A me servono soldi per campare E vi pubblicizzo un prodotto che Conviene a me Perché vengo pagato Dall'indicatore di questo prodotto E conviene a voi Perché comunque è un buon prodotto Comunque Se viene pubblicizzato Vuol dire che ha Una clientela Ha una qualità Ok Perciò Se John Tron pubblicizza Gli audiolibri Lui Trae profitto dagli audiolibri E il pubblico Trae profitto da Buoni audiolibri O comunque Un ottimo sito di audiolibri E Amazon Guadagna perché arriva la clientela Tutti guadagnano Nessuno si lamenta Festa finita Perché in Italia È una questione così spinosa Perciò È ok Essere trasparenti Perché YouTube È diventato un lavoro Negli anni È diventato Un vero e proprio lavoro Se tu metti la testa su YouTube 100% tutto il giorno Arrivi a licenziarti Arrivi a non fare nient'altro nella vita Perché punti a A raggiungere una certa qualità Un certo fandom Tale da poter Campare con i guadagni di YouTube Ma sappiamo che YouTube Ha il braccino corto Quindi se io davvero voglio vivere E voglio dedicare Tutto il tempo della mia vita La mia passione Non posso prendere 5 euro al mese Devo Andarmi a Insomma Ad aggrappare Ad altri scamotaggi Ad altri stragemmi Devo fare la spesa la mattina Ok E Mi sembra di essere abbastanza critico Sull'argomento Perché io In quanto YouTuber Non percepisco neanche i soldi Della partnership Ho i vantaggi Della partnership Tipo poter programmare L'uscita di un video Ma non ho un guadagno Quindi Più esterno alla situazione di così Non si potrebbe essere Secondo me Un video Sponsorizzato È Normale È più che accettabile Al fatto che La sponsorizzazione Non vada ad intaccare Non vada Ad agire In qualche modo Sulla qualità del tuo prodotto Esatto Non è ok Nel momento in cui Vai a Svenderti Come si dice Sgravi Voglio sapere la vostra opinione Passate dalla pagina Facebook Franchi Retro Retro Player Channel Iscrivetevi al canale E guardate l'ultimo episodio Di Franchi Retro Pubblicità Videoludiche 3 Io sono Francesco E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti